Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presso in mio aiuto. Accogli queste mie lodi, o Vergine Santa. Rendici forti per combattere i tuoi nemici. Intenzioni del Rosario Divino Gesù, noi ti offriamo questa corona che reciteremo contemplando i misteri della nostra redenzione. Concedici, per intercessione di Maria, tua Madre Santissima, a cui noi ci rivolgiamo, le virtù necessarie per recitarla bene e la grazia di guadagnare le indulgenze legate a questa santa devozione. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, figlia amatissima dell'Eterno Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Madre amirabile di Dio, figlio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, sposa fedelissima dello Spirito Santo, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a Maria Vergine e l'incarnazione del Verbo. Nel primo mistero gaudioso contempliamo come la Vergine Maria fu salutata dall'Arcangelo Gabriele, il quale le annunciò che avrebbe concepito e dato alla luce Gesù Cristo, nostro Redentore. Chiediamo a Maria, Vergine delle Vergini, per l'indicibile gioia di cui l'annunciazione ricolmò il suo cuore immacolato, che elimini dalle nostre anime tutto quanto a lei si oppone, come le cattive tristezze, le depressioni morali, le diffidenze infondate. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indura in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco l'ancella del Signore, si faccia in me, secondo la tua parola. Nel secondo mistero d'amore, della gioia, contempliamo la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Nel secondo mistero d'amore, della gioia, contempliamo come la Vergine Maria si recò da sua cugina Santa Elisabetta e come San Giovanni Battista sussultò di giubilo nel seno della madre, quando sentì la voce della madre di Dio. Chiediamo a Maria, fonte della nostra gioia, che parli alle anime nostre e ci faccia traboccare di entusiasmo al sentire rispondere alla sua chiamata per una vita di maggiore dedizione al servizio di Dio e della Santa Chiesa. Benedetta sei tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ami. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amin Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amin Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amè Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amè Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della Tua misericordia. Regina della Pace, prega per noi, San Giuseppe, prega per noi, San Michele Arcangelo, Principe delle Schiere Angeliche, pregate per noi. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel terzo mistero d'amore, della gioia, contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Nel terzo mistero gaudioso, contempliamo come la Vergine Maria diede alla luce il suo divin figlio Gesù, in una grotta di Betlemme, e lo depose su di una mangiatoia, non essendovi posto per loro nelle locande della città. Chiediamo a Maria, Madre della Divina Grazia, che ci conceda la tenerezza, la serenità e la forza che emanano dal santo mistero del Natale. Oggi è nato a voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo come era nel principio, ora è sempre nei secoli dei secoli Amen O Gesù, perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia Regina della Pace prega per noi San Giuseppe prega per noi San Michele Arcangelo, Principe delle Schiere Angeliche pregate per noi O Maria concepita senza peccato pregate per noi che ricorriamo a voi Nel quarto mistero d'amore della gioia contempliamo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio Nel quarto mistero gaudioso contempliamo come la Vergine Maria completati i giorni della purificazione presentò il suo divinfiglio al Tempio dove il vecchio Simeone prendendo il bambino tra le braccia profetizzò che esso era venuto al mondo per essere segno di contraddizione e che una spada di dolore avrebbe trafitto l'anima di sua madre chiediamo a Maria specchio di giustizia che ci dia un'anima tutta di fuoco affinché possiamo essere ad esempio di Gesù un segno di contraddizione che unisca i buoni e crei ostacoli all'azione dei cattivi è destinato ad essere segno di contraddizione affinché siano svelati i pensieri di molti cuori Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte ame ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria, Regina della Pace, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. San Michele Arcangelo, Principe delle Schiere Angeliche, prega per noi. O Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Nel quinto mistero d'amore della gioia contempliamo la perdita e ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo come la Vergine Maria e San Giuseppe, dopo aver smarrito il divin figliolo, che a loro insaputa era rimasto a Gerusalemme, dopo tre giorni di dolorosa ricerca, lo ritrovarono nel Tempio, dove discuteva con i dottori della legge. Chiediamo a Maria, consolatrice degli afflitti, che ci dia fedeltà, fiducia e forza davanti alle molteplici perplessità che tante volte affliggono la nostra anima. Non sapevate che io devo trovarmi nella casa del Padre mio? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurra in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte gloria al padre al figlio e allo spirito santo come era in principio e sempre nei secoli dei secoli gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno porta in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia lodato sempre sia il santissimo nome di gesù giuseppe maria regina della pace prega per noi san giuseppe prega per noi san michele arcangelo principe delle schiere angeliche pregate per noi ringraziamento ti rendiamo infinite grazie o sovrana regina per i benefici che ogni giorno riceviamo dalle tue mani generose degnati ora e sempre di prenderci sotto la tua potente protezione e per meglio meritacito sostegno ti salutiamo dicendo salve regina madre di misericordia vita dolcezza e speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime orsù dunque avvocata nostra rivolge a noi quegli occhi i tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria prega per noi santa madre di dio affinché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiera di san bernardo ricordatevi o pietosissima vergine maria che non si è inteso mai al mondo che alcuno ricorrendo alla vostra protezione implorando il vostro aiuto e chiedendo il vostro patrocinio sia rimasto abbandonato animato io da una tale confidenza a voi ricorro o madre vergine delle vergini a voi vengo e con le lacrime agli occhi reo di mille peccati mi prosto ai vostri piedi a domandare pietà non vogliate o madre del verbo disprezzare le mie voci ma benigna ascoltatemi ed esauditemi ame signore pietà cristo pietà signore pietà cristo ascoltaci cristo esaudiscici padre del cielo che sei dio abbi pietà di noi figlio redentore del mondo che sei dio abbi pietà di noi spirito santo che sei dio abbi pietà di noi santa trinità unico dio abbi pietà di noi santa maria prega per noi santa madre di dio prega per noi santa vergine delle vergini prega per noi santa sposa del giusto giuseppe prega per noi madre di cristo prega per noi madre della chiesa prega per noi madre della divina grazia prega per noi madre purissima prega per noi madre castissima prega per noi madre sempre vergine prega per noi madre immacolata prega per noi madre degna di amore prega per noi madre amabile prega per noi madre ammirabile prega per noi madre del buon consiglio prega per noi madre del creatore prega per noi madre del salvatore prega per noi vergine prudente prega per noi vergine degna di onore prega per noi vergine degna di lode prega per noi vergine potente prega per noi vergine clemente prega per noi vergine fedele prega per noi specchio di perfezione prega per noi sede della sapienza prega per noi fonte della nostra gioia prega per noi Tempio dello Spirito Santo, prega per noi, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi, Dimora consacrata a Dio, prega per noi, Rosa Mistica, prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, prega per noi, Fortezza Inespugnabile, prega per noi, Santuario della Divina Presenza, prega per noi, Arca dell'Alleanza, prega per noi, Porta del Cielo, prega per noi, stella del mattino, prega per noi, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede prega per noi regina delle vergini prega per noi regina di tutti i santi prega per noi regina concepita senza peccato prega per noi regina assunta in cielo prega per noi regina del rosario prega per noi regina della famiglia prega per noi regina della pace prega per noi agnelo di dio che togli i peccati del mondo perdonaci o signore agnelo di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, o Signore. Agnelo di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci ha procurato i beni della salvezza eterna, con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sii il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Gli comandi Dio, supplichevoli ti preghiamo. Tu che sei il principe della milizia celeste, con la forza divina rinchiudi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che girano il mondo per portare le anime alla danazione. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme a quello della tua Santissima Sposa. Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinza l'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portassi al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere e aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o provido custode, della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che amorba il mondo. Assisici propizio dal cielo, in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore. È come un tempo salvarsi dalla morte, la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio, dalle ustili insidie e da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché, con il tuo esempio e con il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l'eterna e beatitudine in cielo. Amen. Le nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.